Vi sarà capitato sui social di vedere quelle immagini bellissime di nuvole che si muovono in maniera molto rapida sullo schermo e più intraprendenti di voi si saranno anche domandati chissà come hanno fatto a realizzare una cosa del genere. Ebbene oggi vi mostrerò come si realizza un timelapse sia con la fotocamera sia con un telefono cellulare ottenendo dei risultati tutto sommato simili ma come andremo a scoprire con la fotocamera è possibile personalizzare un po' di più quello che stiamo facendo. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale io sono Cesare mi occupo di fotografia utilizzo sia fotocamere sia ahimè anche lo smartphone e quindi mi capita di usarli entrambi e mi sono dilettato nella sottile arte del timelapse in questi giorni mesi settimane vi porto la mia esperienza e vi faccio vedere come si fa a catturare un timelapse quali sono gli accorgimenti da prendere quali sono le situazioni in cui può funzionare quelle invece in cui assolutamente non funziona andremo a scoprire tutto ciò all'interno di questo video che vi consiglio peraltro di seguire fino alla fine se no vi perdete dei passaggi importanti. Vi ricordo anche se non l'avete già fatto di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto vi faccio anche un appello siccome sto leggendo notizie sconfortanti non solo sui social ma dovete sapere che io leggo anche tramite dei supporti cartacei rettangolari una volta li chiamavamo libri siccome sto leggendo delle cose sconcertanti sulla fine della creatività ed è un problema che affligge soprattutto i giovani perché chi ormai è stagionato la creatività magari non ce l'ha mai avuta o l'ha esaurita però in vita sua gli è capitato di fare qualcosa di creativo i giovani che oggi passano tutto il tempo a guardare stupidate sullo smartphone stanno perdendo molte capacità elementari e non lo dico contro i giovani lo dico per i giovani perché sono preoccupato di questa cosa per cui vi faccio un appello condividete con le persone intorno a voi soprattutto con i giovani condividete i video in cui si parla di creatività condividete i tutorial dove si parla di creatività quelli lunghi soprattutto perché se io mi guardo uno short da 12 secondi in cui mi dicono come si fa il timelapse imposta questo bottone metti la camera su tre piedi e basta quello è il contenuto non lo farai mai non ci proverai nemmeno mai una cosa a cui hai dedicato 12 secondi non ti metterai mai lì mezz'ora a vedere come viene l'hai fruito e basta quindi condividete i video in cui si parla di creatività i vostri figli e i vostri nipoti vi ringrazieranno benissimo ma a questo punto possiamo saltare direttamente all'utilizzo della nostra fotocamera la prima cosa che facciamo ovviamente è che la accendiamo siamo in modalità video e quando andiamo sul menu io qui sto usando il menu facilitato perché sto facendo altri contenuti su questo se andiamo sul menu rosso 3 e andiamo qui sulla modalità timelapse vedete che possiamo andare a attivarla e lui ci chiede sostanzialmente ci fa scegliere la velocità a cui vogliamo che il nostro timelapse venga registrato quindi nella scena 1 stiamo scattando qualcosa che si muove tutto sommato rapidamente come delle persone per esempio e credo che si userebbe questo anche per le automobili o cose del genere nella scena 2 qualcosa che si muove lentamente come le nuvole nella scena 3 qualcosa che si muove probabilmente ancora più lentamente se no abbiamo la modalità custom in questo caso siccome io sono patito di nuvole sono uno dei più grandi esperti in Italia dello scorrimento delle nuvole ovviamente scherzo sono andato a selezionare scena 2 l'ho trovata impostata in maniera già tutto sommato corretta l'unica cosa che ho cambiato è questa io ero impostato di default su Full HD invece io volevo il 4K esposizione noi qui gli possiamo dire di prendere l'esposizione la prima volta e di tenerla fissa per tutto il timelapse che probabilmente è la cosa più corretta da fare nel mio caso però siccome si trattava di nuvole che cambiavano e stava anche calando la luce del giorno ho impostato each frame quindi ogni fotogramma viene ricalcolata l'esposizione questa è una cosa che vi consiglio di ponderare con molta attenzione e personalmente credo che le prossime volte userò questa anche io andiamo a parlare degli intervalli dunque 8 secondi 240 scatti qui sostanzialmente stiamo dicendo alla macchina quale deve essere l'intervallo e quale deve essere il numero totale di scatti questo ovviamente determinerà il tempo totale di posa e l'output del nostro timelapse quindi se io imposto un intervallo di 8 secondi con 240 scatti dovrò tenere la macchina in posa per 30 minuti e avrò un output di 8 secondi se io vado a modificare questo parametro vedete che il tempo cambia quindi posso fare un intervallo di 5 secondi e quindi dovremo lasciare la macchina in posa solamente 20 minuti e avremo comunque sempre un output di 8 secondi se io vado a modificare il numero di scatti vedete che a questo punto e va di 30 in 30 vedete che a questo punto abbiamo un secondo in più 2 secondi in più eccetera eccetera e ovviamente cambia anche il tempo totale di posa quindi dobbiamo decidere questa cosa secondo me basandoci su due fattori ovvero in primis quanto vogliamo che duri il nostro filmato se ci servono 10 secondi di filmato dobbiamo per forza fare 300 scatti se vogliamo questo intervallo e sappiamo che dovremo stare in posa per 40 minuti se viceversa sappiamo che l'azione che ci interessa che potrebbe essere un tramonto sappiamo che durerà 30 minuti automaticamente sappiamo che dobbiamo scendere dovremo andare su 240-210 scatti e quindi avremo un output di 7 secondi una volta che abbiamo deciso premiamo set e a questo punto siamo pronti per partire l'ultima cosa che sono andato a toccare è screen auto off questa di default è una modalità che viene disabilitata io l'ho abilitata perché? perché nel momento in cui premo lo shutter e quindi la macchina comincia a scattare in questo modo il display si spegne quindi la macchina continuerà a scattare la sua fotografia ogni 8 secondi fino al raggiungimento delle 210 però lo farà col monitor spento questo mi permette di risparmiare tanta batteria perché se io lascio il monitor acceso consumo molto di più e può essere a seconda di quanto ho impostato può essere che la batteria finisca prima del completamento della cattura del mio timelapse e questo non vogliamo assolutamente che succeda ma io vi avevo promesso che avremmo parlato anche di smartphone e con lo smartphone in realtà è molto più semplice perché basta andare a selezionare la modalità timelapse e il telefono fa tutto in automatico noi possiamo andare a scegliere l'obiettivo che vogliamo usare quindi possiamo scegliere tra questi tre non sono disponibili tutti c'è una scelta un po' inferiore però a questo punto basta che noi premiamo e vedete il telefono automaticamente sta facendo uno scatto ogni tot è preimpostato quindi decide lui che cosa fare però ci restituisce un risultato che comunque nella maggior parte dei casi va bene e trattandosi di un iPhone avrà l'autoesposizione ogni fotogramma quindi è l'opzione che avevo impostato anch'io sulla mia macchina ovviamente quando voglio fermarlo lo vado a stoppare e lui mi salva automaticamente il mio filmato timelapse qualche considerazione su questo argomento ovviamente quando facciamo un timelapse è ovvio ragazzi ci serve un treppiede o comunque dobbiamo avere il nostro dispositivo appoggiato in una posizione stabile possiamo anche metterla su un muretto possiamo anche metterla su un tavolo funziona lo stesso l'importante è che non la tocchiamo più durante la registrazione quindi se la mettiamo su un tavolo dove stiamo facendo un aperitivo e poi appoggiamo i bicchieri diamo i colpi al tavolo viene una porcata deve essere stabile non si deve muovere la cattura durerà 50 minuti per 50 minuti non la dobbiamo toccare dobbiamo anche stare attenti al vento a me è capitato di avere il dispositivo che col vento si muoveva dobbiamo stare attenti a tutta una serie di cose dobbiamo anche valutare molto bene la scena che stiamo catturando perché tenete conto che se impostiamo un timelapse in una via e poi ci rendiamo conto che passano gli autobus che sono più alti delle macchine ci passano davanti e ce lo rovinano insomma ci vuole un po' di bisogna stare un po' attenti quando si fa un timelapse perché è un'operazione lunga che può dare ottimi risultati però è un peccato magari arrivare a 35 minuti su 50 e vedersi rovinato il timelapse da qualcosa che ci passa davanti piuttosto che un movimento indesiderato della macchina bisogna stare molto attenti perché altrimenti abbiamo buttato un sacco di tempo e cosa ancora peggiore non è una roba che possiamo ripetere subito perché se stiamo facendo un timelapse di un tramonto magari quelle nuvole domani non ci sono più magari per tutta la settimana quelle nuvole non ci sono più magari dobbiamo aspettare l'anno dopo per rifare quel timelapse quindi la pianificazione è assolutamente essenziale l'altra cosa che è assolutamente essenziale è almeno sulla fotocamera perché il telefono fa da solo è calcolarsi bene i tempi ovvero se io so che il tramonto dura un'ora cerco di catturarlo tutto e quindi vado a separare i miei fotogrammi in modo da catturare tutta quella sequenza avendo un filmato che non pesi troppo ma in cui non manchino neanche informazioni viceversa se la mia azione magari è più breve di un tramonto adesso non so cosa possa essere ma magari delle macchine che passano in una via e io voglio fare il timelapse delle auto che passano nella via lì dovrò mettere i miei fotogrammi molto più vicini per catturare le macchine che passano perché altrimenti se io li metto molto distanti mi sono capitati casi limite per cui mettendo i fotogrammi troppo distanti io magari catturo le macchine ferme al semaforo e faccio una posa lunga delle macchine ferme al semaforo poi le macchine partono, si rifermano e scatta di nuovo la macchina fotografica quando le macchine sono ferme in questo modo praticamente ho fatto un timelapse sempre di macchine ferme quindi devo calcolarmi bene i tempi del semaforo in maniera tale che la macchina scatti mentre le macchine passano e in maniera tale che i fotogrammi siano separati in maniera tale da avere le macchine in movimento quasi sempre insomma è complicato bisogna fare un paio di prove non viene subito bisogna prendere il tempo a quello che si sta cercando di catturare però come vi ho mostrato nel corso di questo video i risultati spesso e volentieri possono regalare emozioni a questo punto io vi chiedo fatemi sapere in un commento qui sotto se avete domande e osservazioni su quanto detto fin qui io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto perché alle vostre domande spesso e volentieri rispondo con degli shorts verticali se a qualcuno dovesse interessare il timelapse che ho mostrato oggi è stato registrato con una Canon EOS R100 quindi abbiamo usato un iPhone e una R100 per cui si tratta di una cosa che si può fare anche con una strumentazione base vero è che sulle macchine più progredite abbiamo molte più opzioni per catturare timelapse in maniera un pochettino più progredita scattando anche i singoli fotogrammi quindi avendo magari anche i file RAW di quello che abbiamo scattato e non soltanto il filmato finito però come avete potuto vedere si possono fare cose egregie anche su una fotocamera molto entry level detto questo amici io spero che abbiate imparato anche oggi qualcosa di interessante in quel caso vi chiedo di farmelo capire mettendo un like a questo contenuto e noi ci vediamo come sempre al prossimo video Ciao! Ciao! Ciao!